Io credo che ci sia un forte sentimento discriminatorio da parte dei cittadini rispetto a chi anziché aiutare l'italiano aiuta lo straniero. Dopodiché siamo assolutamente consapevoli che c'è un problema ma che le modalità con cui viene gestito è assolutamente sbagliato. Non ne abbiamo più parlato prima perché la collega Bianchi si è sfilata dalla vicenda cara di Mineo. Però credo che non faccia piacere ai cittadini italiani sapere che in quel cara 4.000 persone accolte, 3 inchieste da parte della magistratura, 11 esponenti politici, la gran parte di NCD, un appalto da 97 milioni di euro gestiti in maniera poco lecita. Cantone l'ha detto in maniera estremamente chiara, non solo che quella gara va rifatta ma Cantone ha detto che quella gara è stata fatta secondo criteri non improntati alla trasparenza e alla correttezza. Io credo che oggi la Lega stia facendo una battaglia politica importante, non lo fa solo in campagna elettorale perché sono 25 anni che diciamo che in questo paese l'immigrazione a nostro avviso non è una ricchezza. Con 3 milioni di disoccupati e con un giovane su due che non trova lavoro dire che l'immigrazione è una risorsa importante per l'occupazione del nostro paese a mio avviso significa dare un calcio in bocca a questi 3 milioni di cittadini italiani che il lavoro non ce l'hanno.